Capire le posizioni dell'azienda che mi sembrano veramente rispetto a quelle formali inviate totalmente incoerenti e contrastanti rispetto a quanto dichiarato precedentemente. Dopo l'incontro con i rappresentanti dei lavoratori il governatore Fedriga si prepara al vertice con la proprietà Varsila nella giornata di domani, al quale porterà anche le richieste forti delle istituzioni locali su una decisione, quella di trasferire la produzione dei motori in Finlandia, bollata come incomprensibile fin dalla prima ora. Lo chiederemo con forza e chiarezza da parte dell'azienda quali sono le intenzioni dell'azienda e dopodiché spiegheremo con altrettanta forza e tanta chiarezza quali sono le intenzioni delle amministrazioni pubbliche e parlo quindi sia della regione che del governo nei confronti dell'azienda se dovesse confermare questa sua scelta. Una bomba sociale per il nostro territorio scoppiata nel bel mezzo di una crisi di governo. È un problema, non c'è dubbio, avere un governo non nella pienezza dei suoi poteri, perlomeno politici perché ovvio che istituzionalmente ancora ce li ha, è un problema rispetto al confronto che ci sarà e oggi inizia ovviamente con la crisi Varsila. Quanto alla raccolta di firme a vari livelli istituzionali per far restare al suo posto il presidente Draghi, questo è il pensiero di Fedriga che non esclude lo scenario delle elezioni. Non ritengo che nel mio ruolo istituzionale possa utilizzarlo per fare firme, ma al contempo devo dire che voglio rimarcare la mia fortissima stima nel presidente Draghi ed anche dire al contempo che però serve una maggioranza che dia delle certezze, il Movimento 5 Stelle mi sembra invece che abbia dato inaffidabilità più che certezza. Non è che non si può escludere nessun percorso, intanto una cosa fondamentale è capire la volontà del presidente Draghi perché ho sentito molte riflessioni, firme, non firme, senza sapere cosa vuole fare il presidente Draghi e quindi penso che per rispetto ai suoi confronti e proprio per quella stima con i suoi confronti noi dobbiamo capire cosa vuole fare il presidente Draghi rispetto a una situazione che è oggettivamente incresciosa e vergognosa che si è creata con il non voto dei 5 Stelle alla fiducia, un partito di maggioranza. E quindi prima di tutto il presidente deve dire se le intenzioni che ha perché capisco la situazione oggettivamente devastante che c'è stata per la maggioranza, dopodiché si valuterà rispetto prima di tutto alle volontà del presidente Draghi.